Ok ragazzi, siete Benjamin Netanyahu, attuale presidente di Israele. Non siete esattamente popolarissimo negli Stati Uniti, ma comunque siete stato invitato quale ospite d'onore al congresso americano, dove la stragrande maggioranza dei politici si aspetta da voi un discorso serio, ponderato e soprattutto moderato. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Diciamoci le cose come stanno, Netti, al pari dei membri del suo governo, non brilla per acume politico oppure ancora per capacità diplomatiche. Uno statista, per il proprio intervento alla Casa Bianca, soprattutto in prossimità delle elezioni americane, avrebbe assunto un tono conciliante, in grado di soddisfare tanto i gusti repubblicani quanto i palati democratici più raffinati. Sì, detto in parole povere, doveva semplicemente sparare quattro bippate cerchiobottiste, due per i democratici, due per i repubblicani. Perché allo stato attuale non puoi prevedere quale dei due schieramenti prevarrà e non puoi naturalmente ridurti a fare la figura del Salvini di turno. Che prima spara dal suo zero contro l'Europa e contro la von der Leyen e poi si stupisce che quest'ultima non le conferisce neanche l'incarico di uscire. E invece Netti, probabilmente per cercare di recuperare consenso all'interno della sua nazione, perché prima o poi anche lui dovrà affrontare delle elezioni e non sarà facile prevalere sui suoi avversari dopo aver permesso un massacro come quello del 7 ottobre, preferisce optare per una linea talmente dura che lo porta a inimicarsi ancora prima di tenere il discorso il consenso di almeno una cinquantina di deputati democratici. Alcune defezioni slash proteste sono prevedibili, come per esempio la protesta di Trashida Strab, il cognome l'avrò sicuramente storpiato e anche sul nome non ci metterei la mano sul fuoco, deputata americana ma di origini palestinesi, che è rimasta tutto il tempo in aula indossando una chefia e tenendo in mano un cartellino tipo quelli per esprimere i voti a programmi come Amici o Saranno Famosi. Nel caso specifico sul cartellino nero con caratteri bianchi c'era scritto Criminale di guerra. Alimentando la leggenda metropolitana che Netti sia effettivamente ricercato o addirittura condannato dalla Corte Penale Internazionale, cosa che naturalmente non corrisponde minimamente a realtà. Comunque, nonostante le defezioni dei democratici, la sala era comunque gremita di deputati e di ospiti. Tanto per dirne una, al congresso si è recato anche Elon Musk per sentire quello che Netti aveva da raccontare. E Netti, sotto il profilo della comunicazione, il suo pubblico certamente riesce a intrattenerlo in modo adeguato, come buona parte dei politici, fa leva sulle emozioni. Netti ha passato una buona parte dell'ora a sua disposizione per parlare degli ostaggi, delle sofferenze delle famiglie e, insomma, per umanizzare il danno subito dal popolo di Israele. Netti, per convincere e coinvolgere la platea, ha letteralmente raccontato diverse storie di ostaggi e di militari. E intendiamoci, questo tipo di comunicazione ha funzionato alla grande, al punto che Netti ha strappato un buon numero di applausi, addirittura di standing ovation durante il suo discorso. E naturalmente Netti ha cercato di coinvolgere il più possibile il congresso, con frasi del tipo, la nostra vittoria sarà anche la vostra vittoria. E naturalmente ci è andato giù pesante, come logico da parte sua, contro gli amassoni e contro l'Iran. E naturalmente non sono mancate frasi a effetto del tipo, prima ci date i mezzi per vincere la guerra e prima la vinciamo. E naturalmente per Netti esiste un unico modo per vincere la guerra, liberare tutti gli ostaggi, perlomeno quelli che sono ancora in vita, e naturalmente spazzare via gli amassoni dalla faccia della striscia di Gaza. Ora, naturalmente il discorso di Netanyahu è stato accolto in modo profondamente diverso a seconda della sensibilità dei parlamentari americani. Secondo Nancy Pelosi è il peggior discorso di sempre al congresso. Viceversa per i trampiani, che sono abituati a esternazioni di questo livello, Netti è un grandissimo oratore. Se invece chiedete la mia modesta opinione, la mia risposta è che la situazione, come sempre, è decisamente complicata e non è facile valutare il discorso di Netti. Da una parte, tecnicamente ha ragione, la guerra contro gli amassoni si può concludere in un solo modo, spazzando via questa organizzazione criminale. Anche perché gli amassoni sono letteralmente i primi a rifiutare una soluzione a due stati. Quindi, o li cancelli dalla faccia del pianeta, oppure non avrai mai e poi mai la pace. Anche se in realtà gli americani erano riusciti ad arrivare abbastanza vicini a un accordo. Gli amassoni si sarebbero accontentati di tanto, tanto, tanto denaro e un salvacondotto sicuro per la Turchia, dove poi avrebbero dovuto avere l'immunità. Perché sapete come sono fatti gli israeliani? Sono in grado di infiltrare squadre pressoché ovunque nel mondo. Per cui non è sufficiente dire mi garantisci un passaggio sicuro dal punto A al punto B. Poi mi devi lasciare in pace nel punto B. Si sa mai che si verifichi qualche esplosione, qualche squadra speciale che penetra all'interno della mia base non più segreta. Insomma, imprevisti di questo tipo. Che i ragazzi del Mossad, beh, organizzano un giorno sì e l'altro pure. O perlomeno questa è la leggenda metropolitana, che sarebbe degna di approfondimento in alcuni video. Ma, ripeto, questa è un'altra storia. Ebbene, le trattative sotto questo profilo non sono andate proprio benissimo. Perché Netti ha risposto chiaramente picche. Anche perché se questi vengono premiati con tanto, tanto, tanto denaro, ottengono un porto sicuro, è chiaro che prima o poi si riorganizzano. E se non si riorganizzano loro, si riorganizzerà qualcun altro che dirà Ehi, guarda che fessi questi occidentali! Noi facciamo attentati bippistici e loro in cambio ci sommergono di oro, platino o metalli preziosi. Sì, 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 insomma, conviene fare i bippisti. Ebbene, questa linea non può passare. E su questo Netti, nel bene o nel male, ha ragione. Tuttavia, Netti è stato approssimativo sotto altri profili e sembra non tenere in minimo conto i problemi della popolazione civile della striscia. Anzi, Netti si è limitato a negarli i problemi dei civili nella striscia, dicendo che, no, no, state tranquilli, arrivano 3.000 calorie pro capite a testa, quindi nessuno muore di fame, nessuno soffre la fame. Il che è relativamente vero, ma il fatto che tu riesca a far entrare, dopo mesi, 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 circa 3.000 calorie per ogni abitante della zona, non significa che poi effettivamente ogni abitante riceva le 3.000 calorie. Ci sono una marea di cose che possono e purtroppo normalmente non funzionano, a prescindere dalla buona volontà dei soldati, dei volontari, eccetera, eccetera. Infatti, tu puoi far entrare anche camion che portano 3.000 calorie per palestinese, ma poi devi fare in modo che fisicamente ogni persona e ogni famiglia abbia quel cibo che stai facendo entrare. E sappiamo perfettamente che la suddivisione del cibo è soggetta a diverse criticità. Abbiamo visto tutti, per esempio, gli aiuti dell'UNRWA essere venduti al mercato come se fossero dei beni qualunque, mentre in realtà avrebbero dovuto essere distribuiti gratuitamente. Abbiamo visto gli assalti ai camion da parte dei civili e abbiamo anche visto persone che non vogliono mettersi in coda, ma preferiscono per l'appunto attaccare il camion e portarsi via sacchi e sacchi e sacchi di cibo, sottraendolo magari ad altre famiglie. E naturalmente a questi problemi non c'è una risposta facile, per il semplice motivo che se metti i soldati a difendere il carico, i soldati giustamente feriscono o eliminano qualcuno, perché devono difendere se stessi il carico. Se non lo fai, il cibo non arriva a destinazione. Non c'è una soluzione pulita e perfetta. Tra l'altro anche sotto il profilo del protocollo istituzionale questo incontro non è andato benissimo. Netti è arrivato negli USA lunedì, detto fra parentesi questo è il primo viaggio che fa fuori porta dal 7 ottobre, ma non ha ancora incontrato, o perlomeno dovrebbe incontrarli fra oggi e domani, per voi credo ieri e oggi, a seconda di quando verrà pubblicato questo video, il presidente Biden e l'ex presidente Trump. Al momento attuale Netti non ha mai nominato Kamala Harris e la stessa Kamala non si è neanche presentata al congresso. Quindi sotto il profilo formale c'è una carenza da parte del governo americano, perché normalmente il presidente o il vice presidente sono presenti per accogliere l'ospite e dall'altra c'è anche un'altra mancanza di rispetto istituzionale, perché Netti ha citato l'ex presidente, l'attuale presidente, ma non la vice presidente che correrà per le elezioni. Poi, se ben ricordo, è facile intuire perché abbia salutato così bene l'ex presidente. L'ex presidente è quello che ha trasferito l'ambasciata a Gerusalemme da Tel Aviv. Quindi un minimo di riconoscenza gli è dovuta e poi, se non erro, è con l'ex presidente che si sono presi gli accordi in base ai quali gli Stati Uniti supportano l'unica democrazia nel Medio Oriente quando è sotto attacco. Ovviamente ci sono state anche delle tensioni a causa della visita di Netti, dei faccino rosi o comunque dei manifestanti hanno preso d'assalto l'hotel dove si trovava la delegazione israeliana, hanno bruciato una bandiera degli Stati Uniti e hanno imbrattato tutto quello che potevano imbrattare nel centro di Washington, compresi alcuni monumenti americani. Chiaramente questi comportamenti sono stati fatti oggetto di dure contestazioni, tanto da Kamala quanto da altri deputati, ma il problema è che ormai la gente sembra non avere esattamente il metro e la misura del rispetto delle istituzioni. Ti svegli la mattina per manifestare a favore di una causa che senti tua evidentemente, vai a bruciare una bandiera degli Stati Uniti offendendo un mucchio di altri valori e di altre persone che in quella bandiera credono. Così l'America e qualunque altra nazione civile non funziona. E devo rilevare sotto questo profilo che negli Stati Uniti c'è stata una mancanza di rispetto istituzionale. Cento stagisti che lavoravano alla Casa Bianca si sono andati malati, così per sport e per protesta, e poi altri dipendenti hanno dichiarato di non essere andati a lavoro proprio per protestare contro il governo che riceveva netti. Non è così che funziona una democrazia, se tu sei un indipendente pubblico devi far funzionare la pubblica amministrazione, anche quando fa cose che magari non trovi simpatico e non condividi. Ragionando sotto questo profilo diventerebbe impossibile per esempio raccogliere le tasse, che sono brutte, cattive, puzzone. Insomma siamo vicini, non dico a un crollo, però certamente la nostra società una piccola crisi la sta attraversando e non c'è bisogno di chiedersi chi se ne avvanteggerà. Se ne avvanteggeranno i nuovi gruppi, quelli dell'estremo oriente, tipo la Cina, l'Oriente più o meno, la Russia e naturalmente i Medio Orientali come i Raniani e per l'appunto gli amassoni. Però ripeto, questi sono ancora piccoli gruppi di persone. Il problema è che quando riesci a mettere insieme centinaia e centinaia di dipendenti della Casa Bianca che fanno queste cose, qualcosa che non va c'è. Dall'altra parte bisogna chiedersi se e a cosa può essere servita questa visita. Di fatto Netti può utilizzarla per avere più visibilità in patria. Verso l'esterno questa visita è stata concepita per spingere gli Stati Uniti e teoricamente anche l'Occidente, che spesso e volentieri segue gli Stati Uniti, ad esercitare una maggiore pressione sull'ONU e sulla Corte Penale Internazionale o sulla Corte Internazionale dell'AIA per evitare che si verifichino incidenti come per esempio quell'opinione che è stata espressa sulle zone occupate qualche giorno fa. Probabilmente questa visita non raggiungerà lo scopo, però insomma Netti ci prova, non è che può fare altro. Tra l'altro questa visita aveva magari anche lo scopo di rinforzare i legami fra la Casa Bianca e Netti, ma sotto questo profilo è stato un fallimento totale. La Casa Bianca sta sempre più prendendo le distanze da Netti. Verosimilmente otterrà comunque le armi o quantomeno parti delle armi richieste, ma non ha più quella collaborazione che aveva una volta. Tant'è che se ci pensate, per esempio, gli accordi di pace, chiamiamoli così, sono stati portati avanti pressoché unilateralmente dagli Stati Uniti e Netti è stato informato solo di un secondo tempo, quando peraltro la notizia era già trapelata dai giornali e le proposte degli ammassoni erano comunque palesemente irricevibili. Quindi, sì, ci troviamo in una situazione piuttosto particolare ed è difficile ricavare dei dati utili, anche se verosimilmente alla fine della fiera la guerra per Israele continuerà come da programma. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale, perché comunque i contenuti sono particolari, come sempre premiatelo iscrivendovi, attivando la campanella, condividendo il link al video e naturalmente lasciando un piace grande e grosso. Se non farete tutto questo, in un futuro remoto, eventuale e decisamente improbabile, potreste ritrovarvi con Netti ospite a cena. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.